Buongiorno, oggi è martedì 28 agosto, rassegna stampa in breve di video 33, nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione, ancora una volta una giornata all'insegna del cielo sereno, lieve innalzamento dei valori massimi, soprattutto nel fondo valle un peggioramento è previsto dal pomeriggio di domani. In regia abbiamo questa mattina Massimo Moro, allora con il suo aiuto andiamo a vedere quello che accade innanzitutto alle 6.30 sull'altopiano del Renon, sarà una giornata di sole splendente qualche nuvole innocua in alta quota che presto lascerà spazio al cielo sereno. Come sempre andiamo alla grafica per capire che cosa ci dobbiamo aspettare, 30 gradi nel capoluogo, 30 gradi a Merano, 29 gradi a Bressanone, identica situazione in provincia di Trento, anche qui, 30 gradi a Trento Città, 29 gradi a Riva del Garda, 28 gradi a Borgo Valsugana, 23 gradi a Cavalese, 30 gradi a Fiera di Primiero, 32 gradi a Malè. Andiamo a vedere quali sono le aperture dei quotidiani a livello locale e nazionale, l'Alto Adige perseguita la ex, è stato arrestato, fine relazione da incubo in manette lo Stalker e poi tragedia sul Cevedale, alpinista precipita nel crepaccio e muore, il cedimento della cresta, l'uomo è caduto per 250 metri, soccorsi i compagni di cordata. Il Corriere dell'Alto Adige, Parc Fiume e Caramaschi voterà no, il sindaco dice troppi pareri negativi, Andriolo del Partito Democratico, la cooperativa non va lasciata sola. La cronaca dalla provincia di Trento, insulti razzistici, c'è l'inchiesta a Fierozzo, indagato il pastore Trentino per le minacce alla giovane allevatrice e poi la capulco dell'Eno, ecco il paradiso dei tuffatori estremi. Identica apertura per il quotidiano Ladige, razzismo c'è un indagato, ci si occupa anche della vendemmia, vendemmia al top, più 25% rispetto al 2017. La cronaca per tornare in provincia di Bolzano con il quotidiano lingua tedesca a Dolomita, ci si occupa del bilancio degli incidenti in montagna, un'estate caratterizzata da numerose tragedie, 12 le vittime, sappiamo ieri l'ultimo tragico episodio di cronaca. Il quotidiano Tagest Zeitung, l'apertura che arriva da Settequerce, si chiama Antonello Rizzati e da 42 anni riesce ad attirare decine e decine di fedeli nella chiesa proprio di Settequerce per le sue capacità, dice lui, di mettere in contatto i fedeli con il divino. Il Corriere della Sera per le notizie a livello nazionale e internazionale, concessioni tutte da rifare, interviene Torninelli che dice autostrade nelle carte finora segrete i ricavi garantiti e poi contributi all'Europa, si riapre lo scontro, solo una farsa risponde Di Maio, io sono pronto al vetto. L'inserto dedicato alle buone notizie, i maghi dei test che aiutano gli studenti, la cronaca che arriva da Milano, di due dentisti che danno un concreto aiuto ai ragazzi nell'affrontare i tanto temuti esami di ammissione. Il Sole 24 Ore, bonus investimenti, proroga con riaordino per premiare le piccole e medie imprese allo studio del governo, un intervento su super e iper ammortamenti. È tutto, in chiusura come sempre vi ricordo gli appuntamenti da non perdere in provincia di Bolzano, ok su ghiaccio protagonista il 31 di agosto a livello internazionale con il Bolzano che affronta il palaonda di avversari svedesi, dal primo al 2 di settembre la festa del paese di San Paolo, il 2 di settembre ancora ok su ghiaccio sempre al palaonda Bolzano che affronta l'Helsinki, sempre il 2 di settembre la festa del Krapfen dell'Alto Adige in Val l'ultimo e dal 7 all'8 di settembre è Sibbenfjörcher Oktoberfest a Melano. È veramente tutto, come sempre io vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di video 33.